Ciao a tutti, sono Nora Celada, persona di Cremona Kinetic. Oggi insieme vedremo una serie di simpatici esercizi da fare con il vostro bambino. Grazie all'aiuto di Crizia e di Maldi. Ciao! Saluta! Pari ciao! Il primo esercizio, l'esercizio per i precipiti, facciamo distensioni su una fanta oppure in casa anche su una sedia. Pronti? Via! Uno, due, tre, quattro, cinque, stop! Ecco il secondo esercizio, facciamo l'esercizio per i glutei e per l'attenuto degli addominali. Dobbiamo semplicemente sollevare il braccio da terra. Pronta? Via! Uno, due, tre, quattro! Ecco la variante per rendere un pochino più difficile l'esercizio. Pronta? Sul bacino, via! Uno, due, scendo. E ripeto, su, mi scendo prima la gamba e poi la gamba. Scendo. Terzo esercizio. Per i glutei facciamo lo squat. Pronta? Via! Uno, due, tre, mamma. Quattro! Quarto e ultimo esercizio. Facciamo un altro esercizio per le gamba e facciamo gli affondi. Pronti? Via! Uno, due, tre, quattro e ultimo esercizio. Per oggi è tutto. Grazie a Cristian Mandi. Vi ricordo di mettere mi piace sui video del nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Ciao! 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 Vi gira il fiume blu Hanno un ponte che poi Attraversa l'Oper